Ho avuto i partiti ufficiali fino all'altro ieri e poi però si dovrà rimettere a lavoro con o senza conte, con o senza ausilio, con o senza zangio, con o senza malotta. La stagione inizierà nuovamente con l'ambizione di andare a vincere chiaramente perché questo processo, indipendentemente dagli attori, è un processo che dovrà continuare. Un processo, dicevi tu, che è iniziato, un progetto che è iniziato di Andrea Pirlo, Allora, siamo anche con Francesco Cucatica.